Ciao a tutti amici, benvenuti nel mio canale, io sono Moira e oggi continuiamo Assassin's Creed, dunque eravamo rimasti qui che non sapevo cosa fare, quindi io direi di leggere meglio la missione, allora, 6 indagini da fare, sono necessarie due indagini per accedere al ricordo del senso, individuoli da un punto, ah ok ok ok, quindi devo andare nel punto panoramico, eccolo qua, selezioniamolo, ok, e allora cerchiamo questo punto panoramico e vediamo di completare queste indagini per andare avanti con la missione, credo che sia qua sopra, proviamo ad andare qua, sali, ok, no, dove, vabbè dai vai qua, va bene lo stesso, ah eccola là, ce la fai a saltare? Salta, perfetto, di qua, ci siamo quasi, dovrebbe essere questa, sì, è questa, proprio in qua, ecco la bella aquila, sali, oh, ok, punto panoramico, panoramico, vai, ok, ora dovremmo esserci, sì, infatti, ci sono molti più punti ora sulla mappa, eh, mamma mia quanti, oddio, allora, abbiamo un borseggio, ok, quindi questo qui sarà l'indagine, questo cos'è? Dimora, vabbè, lo scopriremo, soccorso, ma questa qua è tutta la gente da aiutare e questi sono gli altri punti panoramici, c'è anche un distratto, ah no, distratto medio, distratto povero, distratto ricco, va bene, ok, quindi io direi di, eh, cosa facciamo, borseggiamo o ascoltiamo? Ah, vabbè, io direi che, dato che siamo più vicini, intanto andiamo a borseggiare, c'è il fieno, sì, vai! vediamo subito chi dobbiamo borseggiare, spostati, dai qua, sì, credo che sia quello lì, quindi io direi di nasconderci qua dietro, magari un po' più, ok, qua, perfetto. Ok, ora dobbiamo borseggiare, quindi, basso profilo, fai finta di niente, facciamo finta di niente, lascia che passi, lascia che passi, vai, 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 avvicinati, vabbè, vabbè, ma anche voi se vi mettete in mezzo, ci ha scoperti, non mi ricordo più come si borseggia, ok, eccolo, vai, 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 perfetto, abbiamo recuperato una lettera, ah, stanno preparando una grossa spedizione di armi, d'accordo, adesso, io direi, andiamo all'altro punto, provo informatore, ok, che è là, qua, bisogna aiutare un po' di gente, però io ho paura che se attacco così in mezzo a tutti, qua, cioè, mi vedono, mi scoprono subito, cosa facciamo? Attacchiamo? Attacchiamo? Allora, facciamo una cosa, ci avviciniamo, piano, adesso, non vedo niente, ok? Accidenti, stiamo morendo, no, per dire, no, vai, vai, l'ultimo, vai, che stiamo morendo, vai, vai, perfetto, molto bene, cos'è questo? Sì, vabbè, soccorso compiuto, fatto, ma perché mi ha inquadrato loro? chi sono? Vigilanti, vigilanti ci aiutano bloccando gli inseguitori, ah, ok, va bene, quindi ci siamo fatti amici, non solo gli eruditi, ma anche i vigilanti, i vigilanti sono alleati, va bene, quindi io direi, c'è ancora gente che mi segue, ok, basta, non c'è più nessuno che mi segue, quindi stiamo, dove dobbiamo andare? da là, vabbè, allora torniamo indietro, per forza, dobbiamo andare, però di qua, ce la faccio da arrampicarmi? Senza, ok, c'è una scala, perfetto, dobbiamo andare di là, di là, ok, eccolo qui, sei tu? L'informatore? Salute e pace, Altair, stai cercando informazioni per eliminare Tamir, giusto? Temo di non poterti aiutare, ma, Bahir, forse sì, non dovrebbe essere molto distante da qui. Cosa? Ma, corso su te, vai, fammi tutti, fammi tutti! Che adesso devo fare? Perché c'è il tempo? Ragazzo, l'informatore? Devo farlo prima del tempo, ok, allora seguiamo il segnale su la mappa, Cerca di non cadere, non cadere! Perché perdiamo solo tempo. Salta? Ah, beh, beh, non importa. Eccolo, 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 eccolo! Bene, dai, in tempo. Ma non sta a me giudicare. Il Rafiq mi ha chiesto di tenere d'occhio il souk controllato da Tamir. Ecco ciò che ho appreso. C'è un gruppo di fomentatori che si raduna presso l'uscita sud-est. Loro e le guardie non si vedono di buon occhio. Trova il modo di ottenerne la fiducia e potrai contare sul loro aiuto. Ok. Prima indagine completata. Trova aiuto in città per facilitarti la fuga dal souk. Perfetto. La tua indagine è completa. Torna alla dimora per iniziare la missione di assassino. Se preferisci puoi anche condurre altre indagini. Ok, quindi vediamo un po' se c'è qualcos'altro che possiamo fare. Allora io direi qua c'è subito un punto panoramico. Io direi di andarci immediatamente. E' qui vicino. Quindi saliamo qua. Così aggiungiamo anche un po' di dettagli alla macchina. Dove? Questa. Perfetto. C'eravamo proprio sotto. Ok. Sincronizza. Perfetto. C'è il fieno? Sì. Però prima voglio vedere subito cosa possiamo fare. Qua praticamente ci sono tutte le altre indagini. Oppure continuiamo. Ma io direi facciamo un altro paio di indagini. Magari scopriamo anche qualcosa di interessante. Quindi l'indagine è di là. Vai. Quindi, 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 di qua. Dovremmo esserci? Dove? Ah, forse è qua sotto. Probabilmente devo scendere. Allora, facciamo così. Ok, ci siamo. Dove? No. Forse ci siamo proprio sopra. Quindi io direi. Scendiamo. Sì, eccoli lì. Magari mettiamoci dietro al palo. Ah, sì, di su una panca. Ok. Sì, sì. E adesso vai. No. Forse ho sbagliato bersaglio. Ascoltare. Ok. Ti dico che sono i topi? No, i bambini. Gli ho sentiti ridere. Topi o bambini? Comunque sia, nuoce ai nostri affari. Tutto quel rumore. Bisognerebbe salire su quelle travi e sbarazzarsene. Chissà come fanno a salire lassù. Dal cortile centrale? Molto probabile. Dovremmo chiedere alle guardie di controllare. Ah, sono troppo occupate a lustrare il deretano del loro signore. E quindi? E' possibile cedere le travi sopra il cortile centrale? Vabbè. Quindi probabilmente queste missioni secondarie ci, come dire, ci danno delle informazioni aggiuntive così ma... Ops. Ma non... Non utilissime. Quindi, io direi di andare alla dimora. Così vediamo che cos'è. Sali. Ci possiamo arrampicare? Dove? Vai qui. No, no. Lì ce la guardi. Meglio di no. Qua ce la fai? Sì, ok. Perfetto. Ok. Andiamo. Sempre meglio passare per i tetti in modo che nessuno ci veda. Salta. Oh, c'è qualcuno in difficoltà. Dove, 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 dove? Che facciamo? Come credete di arrivare fin qua? Si arrampicano. Ascolta. Scendi. Dove sono? Gli ho persi. Eccolo, eccolo, eccolo. Maledetto. 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 Dietro, dietro. Perfetto. Siete passato proprio al momento giusto. Ancora poco e mi avrebbero portato via. Bene, bene, bene. Oh, ecco i nostri amici vigilanti che distraggono le guardie. Io direi che se riusciamo... No, ancora! Maledetto! Come ancora? Questi vigilanti quindi no, non servono più di tanto, eh. Vai, vai, vai. Vai. Oh, invece sì, guardali. Lo tengo a fermo. Lo tenevo a fermo finché io lo colpivo. Oddio. Siamo arrivati comunque alla dimora degli assassini. La dimora degli assassini è sul tetto, ok. Vai. Ma che fai? Devi arrampicarti. È in fretta anche perché ci stanno per vedere. Ok, 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 vai via, 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 via. Perfetto. Dimora degli assassini. Qui? Qui dentro? Immagino di sì. Vai dentro! Vai dentro! Ma... Carina. Altair, che piacere vederti. È tutto intero. Altrettanto, amico. Mi dispiace dei tuoi guai. Non darti pena. Poco fa c'erano alcuni tuoi fratelli qui. Oh, se avessi udito cosa dicevano. Sono certo che li avresti uccisi all'istante. Non fa niente. Già, tu non sei mai stato portato per il credo, vero? È tutto. Scusa, talvolta mi lascio un po' andare. Quali affari ti conducono a Damasco? Un uomo di nome Tamir. Al-Mualim non gradisce il suo lavoro. Devo porvi fine. Dimmi dove trovarlo. Confido che tu abbia sorvegliato la zona per conoscere meglio il tuo nemico. Sì, questo è ciò che ho appreso. Tamir controlla il Sukk al-Silah. Sta facendo fortuna con la vendita di armi e armature e molti lo sostengono in questa impresa. Fabbri, mercanti, finanziatori. È il più grosso mercante di morte di queste terre. Hai escogitato il modo per liberarci da quell'impiastro? Si terrà un'assemblea al Sukk al-Silah per discutere di un'importante vendita. Dicono che sia il più grosso affare che Tamir abbia mai fatto. Sarà distratto dal lavoro. Colpirò allora. Il tuo piano sembra sensato. Ti do licenza di andare. Si è fatto il volere di Al-Mualim. Vuoi rimanere qui finché non sei pronto? Abbiamo finito. C'è qualcosa di interessante? No. Ah, ce l'avevamo promessi comodi. Hai anche fatto il sonnellino. Tamir nel Sukk. Indaffarato preparato a preparare una grossa squisizione di alma. È il momento di colpire. Ok, quindi. Guardiamo qui. Eccolo qui. Ha il nostro bersaglio da assassinare. Ok, qui invece ci sono i vigilanti. Punto panoramico. Allora, io direi. Raggiungiamo un punto panoramico. Tanto da sviluppare un attimo un po' di mappa. E poi ci fermiamo. Quindi. Usciamo. Punto panoramico. Eccolo. Eccolo. No, no, no. Stavo cadendo. Ah, c'è qualcuno in pericolo. Beh, beh. Adesso non ho tempo. Non ho fatto niente. Ehm. Salta. Buongiorno amico. Se posso aiutarvi in qualche modo. In qualunque modo. Ma no. Questo l'avevamo già fatto. Eh, infatti è di là. Ho sbagliato. Allora, andiamo qui. Non scendere per piacere. Adesso cerca di beccare la scala. Beccala. No. Oh, vabbè. Salta. Ok. Credo sia... Dov'è? Dov'è? Dovremmo esserci ormai. Mi... Stavo perdendo. È quella? Può essere. Salta. Ok, ci siamo. Eccola qua. Salì? Dai. Dai. Ok, a questo punto io direi di stoppare quel video Lasciate un mi piace e un commento se vi è piaciuto Iscrivetevi al mio canale E noi ci rivediamo al prossimo video Ciao a tutti